Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi.Barbara D'Urso su tutte le furie per un gesto che non le è andato giù, è successo per strada, non è riuscita a contenersi, ecco i dettagli In questo periodo si parla molto di Barbara D'Urso e di tutte le indiscrezioni che riguardano il suo lavoro e la sua vita privata La conduttrice, infatti, sembra pronta a un futuro lontano da Mediaset, visto che secondo i rumors avrebbe rifiutato di firmare il nuovo contratto con la società per aprirsi a nuovi orizzonti professionali Ovviamente si tratta di indiscrezioni e non di notizie confermate dai diretti interessati, per cui Barbara al momento è ancora impegnata con il suo pomeriggio 5 e fino a poco tempo fa anche con il tour dello spettacolo teatrale Taxi a due piazze, di cui è protagonista Oltre alle soddisfazioni e agli impegni professionali, poi, la D'Urso sta vivendo anche un momento speciale dal punto di vista personale, perché di recente è diventata nonna di una splendida bambina Poiché è sempre super riservata sulla sua vita privata, la conduttrice non l'ha mostrata sui social, ma ha postato l'immagine di una manina, oltre ad aver parlato della piccola da Silvia Toffanina Verissimo Mentre sul web si parla del suo futuro e di quello che potrebbe accadere, Barbara è sempre super presente e attiva sul social e racconta le sue giornate e i suoi impegni di vita quotidiana Nelle ultime ore, però, l'abbiamo vista anche molto arrabbiata per un gesto che proprio non le è andato giù, ecco cos'è successo alla conduttrice mentre era in strada Barbara D'Urso su tutte le furie per il gesto avvenuto in strada, la conduttrice non si contiene, ecco cos'è successo nel dettaglio Barbara D'Urso si è davvero molto arrabbiata nelle ultime ore e non ha esitato a mostrarlo anche sui social, dove ha condiviso tutto il video di quello che è accaduto e che le ha fatto perdere la pazienza Mentre era in un parco a Milano per una passeggiata con un'amica, la conduttrice si è imbattuta in alcuni rifiuti lasciati per strada, precisamente si trattava di un pacchetto di sigarette e una busta di carta con all'interno dei contenitori di plastica per il cibo Hanno lasciato questo, mamma mia come mi fanno innervosire, ha detto la conduttrice mentre girava il video Lei e la sua amica hanno raccolto i rifiuti e li hanno gettati nel cestino più vicino, prima di tornare a casa a fare le loro cose Sempre durante la ripresa, infatti, Barbara ha detto di essere particolarmente impegnata e di avere dunque una certa fretta di rientrare Questo non le ha impedito, però, di fare un bellissimo gesto di civiltà e di condividerlo con i suoi tantissimi followers, così da poter essere anche di esempio su come è bene agire quando si sta in strada Vi è piaciuto il suo comportamento? Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me Arrivederci, al prossimo video